mi raccomando perché alla prima arrabbiata è stato allungato e alzato il cordolo in appoggio e in uscita non pensate di tagliare per arrivare prima la seconda arrabbiata perché vedete cosa può succedere in caso di incendio a bordo speriamo di no c'è l'area F adibita guidate con la testa e vinca il migliore grazie